L'imprenditore Umberto Carriera, nonché leader di IoApro, non si candiderà a sindaco di Pesaro per le amministrative 2024. Ad allontanare qualsiasi voce è stato lui stesso ieri sera all'incontro avvenuto al Circolo di Muraglia, da lui organizzato per lanciare il progetto Ribaltiamo Pesaro, dedito alla costruzione di una nuova lista civica. L'invito a parteciparvi era libero ed esteso a chiunque, dove dialogo e idee hanno lasciato spazio a nuove proposte per la Pesaro del futuro. Di partecipare attivamente come candidatura no, sicuramente darò una mano il più possibile, tutta la mia visibilità mediatica che è stata in questi anni può essere sicuramente utile, i gruppi di lavoro che abbiamo creato saranno sicuramente utili, il mio nome difficilmente sarà tra le liste relative alla candidatura. Piuttosto prematuro dire a cosa bisogna puntare e a chi bisogna puntare, prima dobbiamo capire se tra di noi ci sarà un accordo per quanto riguarda il programma, ci troveremo un candidato sindaco condivisibile per tutti, poi ci sarà tempo per capire dove si può arrivare. Le idee sono tante, sappiamo tutti cosa funziona Pesaro e cosa non funziona, ma parlare oggi di un programma, quando ancora non si sa, se ci sarà una lista, come si chiamerà, e chi sarà il candidato sindaco, chiaramente è prematuro. Tra qualche settimana o qualche mese sicuramente avremo le idee più chiare. Io credo che dei buoni amministratori debbano essere stati anche dei lavoratori, poi buoni o cattivi, insomma, quello è difficile da capire. Guardando chi oggi amministra la nostra città, se facciamo l'esempio del sindaco, il sindaco non ha mai lavorato in vita sua, è buon per lui. Poi è chiaro che fare il sindaco, fare il presidente di provincia o fare il consigliere può essere visto come un lavoro. Io parlo di lavoro sul campo. Certo che un imprenditore, piuttosto che un medico, piuttosto che un professore, possono sicuramente dare delle idee all'interno dell'amministrazione comunale che magari chi non ha mai lavorato fa fatica a percepire.